musica e oggi ragazzi noi dobbiamo andare a luca comics e vi farò vedere qualcosa di picco per quelli che non ci potevano andare dallo colletto nei commenti dove ho detto che andava luca comics in tanti non ci sarebbero potuti venire quindi quindi ho detto va bene facciamo un mini vlog così molto shallow molto shallow sì e e quando i beat drop no 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 e quando i beat drop out e quando i beat drop out and there people gone e still be there still be there for me child e lì 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 sa and there morning come e che se deve essere still be there for me child Fai vedere allora. Allora siamo qui, dobbiamo arrivare qua che c'è il fonte, fai qui sotto. Praticamente vogliamo vedere il ponte del diavolo, che è un ponte qua vicino a Lucca, che è molto bella, molto figo. C'è anche una leggenda che per adesso non sarò a dirvela comunque cercate la sua internet, che è molto interessante. E quindi niente, vogliamo andare a questo ponte, perché da quello che ho visto è molto figo, quindi volevo fare qualche ripresino. Oggi ho un lago. Uno dei più grandi epicspets della storia dell'umanità, perché il ponte era di qua, noi stiamo venendo da su, l'abbiamo passato dopo due ore a cercare di capire dove era stato qui. Va bene, lo metteremo al ritorno. Allora la situazione è molto triste, perché mancano tipo quattro fermate, e non c'ha voglia nessuno, non esattamente di continuare a stare sul treno. Dove siamo noi? Siamo a Borgo, a Mozano, e ci mancano quattro fermate. Perfetto, che godura. Ho detto un'ora di scendere dal treno per non scappare la pipì. Quindi ok, ci vediamo un po' dopo, quando arriviamo. Se vediamo Iri. Ma cosa vuoi? Stai contenta di tutto ciò? Siamo arrivati. A me ormai si era troppo passato il sedere, quindi... Le gambe, attenzione. Pensiamo all'Ufacomics, se non abbiamo il biglietto. Ehm... credo. La situazione che vedo, la situazione... dove sei? Ma vedo molto dura la situazione perché c'è una fila enorme. E... eh... oddio mio, da dove inizia la fila? Da dove inizia la fila? Da dove inizia la fila? Signore... Oddio, ma da dove inizia questa fila? Silvia... Non ci prendiamo banco di lieto oggi. Oddio, ma da dov'è che inizia? Ci rivediamo tipo tra nove ore. Esatto. Tanto per rintendere. Esatto. Esatto. Onde... this kind è lì? Vi servirà! Viblyannah... Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Ormai non ce la facevamo più ferone Ad alcuna perché abbiamo avuto l'autografo di figlio Io ho avuto il cane magico E lei invece ha avuto il piccione magico Lei aveva fatto la cosa di disegnarli E io gli ereto il piccione magico E quindi niente Adesso siamo qua Non facciamo niente per le prossime 22 anni e mezzo Per le prossime 22 anni E quindi Ragazzi vi ricordate quando prima ho detto che sono stato più di due ore ad aspettare Sì o vero? Praticamente in queste due ore che sono stato ad aspettare Mi ero preparato un discorso da dire a Sio Soltanto che alla fine mi sono ritrovato a fare la solita fine delle fan di Justin Bieber Che appena vedono il loro idolo Vanno in palla e non capiscono più quello che stanno dicendo Ho detto vabbè tanto non lo rivedrò più in tutta la mia vita Quindi tanto vale che glielo dico Tanto da qui a stasera se l'è già dimenticato Sono una delle tante persone che gli dicono qualcosa Hanno voluto dirgli appunto un po' di cose Anche se non ho capito nemmeno io cosa volevo dire Sì Perché lui è alto Dio è tu E' un po' di cose E' un po' di cose Ci vuole intelligenza per fare tutto Perché per fare tutto Felicità ci vuole tutto Bravo Sì 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 No ma quello che magari diventa Quello fa cavolato Invece se non è E' più una cosa che ti fa ridere Bisogna essere un po' di intelligenza Grazie Disegno E' un piccione magico Piccione magico Lucrezia Silvia 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 scusa Eccoci qua Arrivederci Grazie amici Maria Angiungio Angela Va bene Ciao 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 Ciao